buongiorno buongiorno a tutti allora benvenuti sul canile iscrivetevi tutti quest'oggi sono fomentato un video importantissimo sulla fiorentina va bene spero che abbia un minutaggio decente perché sono carico incazzato fomentato un sacco di cose da dirvi iscrivetevi al canale condividete il video scaricate one football applicazione che vi lascio in descrizione seguitemi sui social e visitate violapresses.com mi raccomando allora iniziamo questo video va bene che toccherà diversi frangenti ma inizio da una piccola precisazione sul video di pagelle di ieri allora ho visto commentatori che mi rimproveravano voti che non ho mai dato tipo come fai a dare lo stesso voto a vlauvi ceriberi ma io non ho dato lo stesso voto a vlauvi ceriberi vi prego prima di commentare i video di guardarli fino alla fine e di essere sicuri di aver capito cosa il videante capito in questo caso io abbia detto non che guardate due minuti e poi commentate non che guardate e mi attribuite cose che non ho mai detto cazzo ascoltate bene sennò non ascoltate sennò non guardate ma non è che mi dovete dire cose che non ho mai detto ok poi faccio una piccola precisazione perché bene o male sui voti c'è stata una concordia generale unica cosa criticata è stato il il voto che ho dato a ghezzal che è stato 5 e mezzo c'era qualcuno più di uno che voleva dargli 6 ecco anche questo è il ritratto di cui poi parlerò abbastanza limpido cristallino di quello che è il momento del tifo fiorentino ma ditemi per quale motivo ghezzal deve deve aver pigliato 6 che ha fatto 5 6 partite ne ha fate una due buona di quelle 5 6 per il resto sparito tutta la stagione anzi 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 5 e mezzo è già abbastanza generoso e visto che l'avete contestato non solo lo confermo ma lo abbasso quindi 5 più a ghezzal va bene 5 più 5 più a ghezzal detto questo veniamo al discorso a tanto alla situazione che vedo attorno alla fiorentina allora io penso che e poi lo riprenderò questo discorso anche commentando la conferenza stampa di commissa non potete essere contenti di un decimo posto non può già per definizione secondo me un tifoso della fiorentina che è la quinta squadra della storia della serie a essere contento per un decimo posto non può un tifoso della fiorentina essere contento di un decimo posto e non può soprattutto spacciarcelo come un successo che non è dopo le fanfare estive che si sono sentite quest'estate da parte di a tifosi che oggi dissimulano falsa felicità b critica sportiva e giornalistica che in parte o in mai o in maggior parte sta già facendo marcia indietro in un clima di mini distacco mini scontentezza mini delusione che già si inizia a respirare non potete voi pensare che noi crediamo alle vostre dissimulate sulla felicità per quello che è il momento della fiorentina per un decimo posto per scelte tecniche votate e alla conservazione dell'impianto che ci ha fatto arrivare decimi e alla incomprensione o al rinvio di qualsiasi chiarezza programmatica su quello che si vuole fare vi faccio un piccolo esempio quest'estate io feci un video dicendo guardate che il verona ci sta insegnando a fare mercato guardate che il verona sta facendo un calcio mercato più razionale del nostro ha un centrocampo che rischia di essere migliore del nostro e c'erano persone ci sono persone in questo in questo scorcio di tempo che sono contente perché abbiamo raggiunto il verona ma la mia era una provocazione cioè a parte che il verona ci ha insegnato veramente a far calcio mercato perché negli scontri diretti è arrivato nono e noi decimo quindi pensate ci siamo fatti anche superare da una neopromossa sul campo e nella verità ma a parte questo anche se non ci avesse superato la mia era una provocazione cioè voice voi siete contenti perché abbiamo preso gli stessi punti del verona che è una neopromossa ma nella normalità non non dovrebbe succedere mai nella vita e non doveva succedere con questa nuova presidenza non dovrebbe succedere a questa fiorentina ok cioè voi se voi siete contenti perché abbiamo fatto gli stessi punti del verona serviva commisso per questo cioè avete chiamato commisso l'avete accolto come capito star trek perché perché se arrivati i decimi abbiamo gli stessi punti del verona ma no non oso chiedervi se avessimo fatto male dove dove saremo in interregionale cioè io trovo vera a me più più di più a me da fastidio vedere quanto in basso si è caduti rispetto alle pretese la conoscenza e la coscienza di quella che è la fiorentina e quanto sia ipocrita discrepante falso capito falsa la differenza tra le aspettative che voi stessi avevate e che rimproverate a noi rimproveravate a noi di non avere e tutto quello che vi fate andare avanti oggi andare bene parlo dei residuali diciamo di quelli che ancora non si pongono delle domande e fanno finta che vada tutto bene addirittura la contentezza per essere arrivati a pari punti del verona che è una neopromossa che negli scontri diretti ci ha dato pure cacca va bene poi vediamo qui che cosa mi ero segnato ah sì che se voi vedete la stagione della fiorentina è stata definita abbastanza deludente da diverse persone penso per esempio a criscitiello che ha fatto le pagelle della serie a e ha definito la fiorentina un flop ora io non voglio usare terminologie negative non voglio criticare sono stato il primo a dirvi che secondo me arrivavamo decimi io dico solo attenzione che c'è a una discrepanza tra quello che era stato narrato in estate e quello che poi si è visto sul campo b visto che ci siamo proiettati già verso l'anno prossimo attenzione perché le mosse che ci avvicinano all'anno prossimo non sono poi così entusiasmanti e qui veniamo alla conferenza stampa di commisso di commisso anche qui io legando tutti i punti voglio farvi una domanda ma per voi diciamo entusiasti e per commisso stesso le nostre competitor chi sono sono il napoli la lazio e la roma che pure senza avere lo stadio vi faccio notare stanno facendo dei campionati comunque di un altro tipo che sono poi le nostre competitor storiche perché anche a livello di classifica generale noi siamo quinti esattamente sotto la roma e sopra la lazio come punti e sopra il napoli come punti storicamente raccolti e fino a 4 5 anni fa capitava di essere sopra di napoli e lazio anche sul campo spesso e volentieri ma allora io mi chiedo le nostre competitor sono queste o sono diventate veramente il verona il cagliari il bologna perché ieri ho sentito fare confronti per esempio consaputo col bologna e via dicendo ma lo noto perché se voi siete entusiasti per aver preso gli stessi punti e la stessa posizione di classifica del verona io me lo chiedo seriamente cioè ma la la vostra fiorentina di commisso su chi è che deve basarsi no cioè capiamolo e chiaritemelo perché altrimenti siamo due mondi incomunicanti perché io vi sto parlando e vi sto facendo delle analisi su una fiorentina che vorrei ritornasse europea che ritornasse in coppa uefa che giocasse le sue le sue gare di europa league che potesse appigliare ma se voi siete contenti dei decimi posti se fate i confronti con il verona evidentemente quello è il vostro obiettivo allora se quello deve essere l'obiettivo della fiorentina ci capiamo e allora anch'io magari a sta stagione altro che 5 e mezzo ma gli posso dare tranquillamente 6 e mezzo 7 posso dare 7 a commisso posso dare 6 ad albert posso dare quello che quello che volete ma a mio avviso e anche da quello che ci avevate presentato e che c'era stato presentato quest'estate i discorsi erano erano un po' diversi quindi capiamoci qual è secondo voi la fiorentina capito che che obiettivo deve avere cioè perché siete contenti siete contenti perché i nostri competitor sono quelli perché capiamoci 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 oltretutto vi ripeto al di fuori della bolla di auto illusione che si vive tra residuali tifosi della fiorentina molti si stanno interrogando su quella che è su quello che è il futuro della fiorentina su cosa farà la fiorentina su quello che è stato il primo anno della fiorentina leggo per esempio due articoli di due giornalisti brovarone e bucchioni che sicuramente conoscerete articoli che potete ritrovare nel web ma che vi lascio anche in descrizione questi due due domande se le iniziano a fare per esempio bucchioni ha scritto che c'è una grande discrepanza secondo lui vede una grande differenza tra il commisso di quest'estate che era il re di firenze che parlava di champions league in pochi anni e quello di oggi che riporto le parole di bucchioni e sto parlando di bucchioni che sapete quanto entusiasmo poteva avere per la presidenza quanto ne ha avuto bucchioni ha detto mi sembra diventato un braccino sembra un braccino leggete l'articolo bene anche voi commisso è anche brovarone ha detto la conferma di iachini mi sa di una mossa per prendere tempo e anche l'anno prossimo sarà un anno di transizione non stiamo parlando di due piripicchi e stiamo parlando di due che seguono molto bene il mondo della fiorentina e stiamo parlando se si parla di bucchioni di una persona che ha sempre dato entusiasmo anche troppo per me ma questo mio parere personale alla presidenza fino a poco tempo fa ok poi veniamo alla conferenza stampa voi avete capito quali sono i piani di commisso per l'anno prossimo cosa vuol dire parte sinistra della classifica e giocare a calcio ma va ma va pensavo giocassimo golf ovvio che si gioca a calcio ma cosa vuol dire parte sinistra della classifica mi pare fosse quest'anno l'obiettivo fosse quest'anno la parte sinistra della classifica vuol dire tutto e niente anche qui anche quest'anno siamo arrivati nella parte sinistra della classifica ripuntiamo un decimo posto vedete che c'è io sento proprio che che manca capito quella politica di step di 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 aggressione tra virgolette ad un obiettivo lo si è sentito anche ieri nella conferenza stampa ok poi una cosa su tutte che non mi è piaciuta molto è quando si è parlato per esempio di del del calcio mercato e di amrabat e del calcio mercato in generale quando detto amrabat merito mio l'ho voluto io cioè ma vi faccio una domanda che anche un po di management diciamo per chi ha la sensibilità per queste cose cioè sei in un momento nel quale il tuo direttore sportivo il tuo management della tua area dirigenziale è accusata o comunque non è vista molto bene e si ha il percepito soprattutto per pradè che abbia fatto diversi errori ma un presidente che percepisce questo no non ha la sensibilità di non attestarsi capito il merito di amrabat l'ho voluto io sia una mia scelta secondo me è un vero presidente diciamo sensibile dice il signor pradè mi ha dato una grande mano su amrabat e anche merito di pradè se amrabat è qui è stato pradè a farmi visionare amrabat di modo che ci sia una fiducia in una dirigenza diciamo che non è che ne ne attiri specialmente nella figura del ds grandissima vista le ultime scelte no invece c'è sempre sta fissa di attestarsi tutto di un po anche secondo me di farsi piacere che non mi piace che non mi piace che non mi piace per niente che non mi piace per niente ok che non mi piace per niente a mio avviso un presidente che ha la sensibilità di capire i momenti evita di attestarsi i meriti capito di ai merito mio e merito mio e merito di qua e fa una scelta anche comunicativa di stampo diverso vi rimando ad un'altra cosa non si parla di un di francesco che secondo tutto mercato web prima io questo poi vi dico che non ci credo ma secondo tutto mercato web di francesco prima di accordarsi col cagliari avrebbe avuto un colloquio non convincente non troppo convincente con la fiorentina non troppo convincente con la fiorentina allora juric non si è riusciti a convincerlo secondo molti de zerbi rinnovato anche di francesco che era libero avrebbe avuto un colloquio non convincente con la fiorentina ma li sapete unire i punti possiamo unirli questi punti possiamo unirli o no a parte che io vi dico che non credo che di francesco io non credo alle storie che sono stati contattati tutti sti allenatori io penso che semplicemente andasse bene confermare i achini e non credo che siano stati confermati contattati tutti sti allenatori che si siano fatte le corse e le gare per per contattare gli allenatori ma detto questo detto questo se è vero non è una gran cosa e se è vero questa cosa qui di di francesco vi prego di iniziare a unire i puntini vi prego di iniziare a unire i puntini ok vi prego di iniziare a unire i puntini perché la situazione secondo me a me non ispira grandissimi pindarismi ho voglia di fare voli pindarici ok a me pare che finché la questione stadio non sarà risolta oltretutto vi ripeto dalla questione tecnica la cioè dal punto di vista tecnico la questione stadio è una porzione perché non è che non è che ti danno lo stadio capito e magicamente dall'oggi al domani diventi real madrid non è così comunque c'è un lato tecnico che devi sviluppare comunque c'è un lato tecnico che devi sviluppare anche il frosinone allo stadio di proprietà è lì che non si sa neanche se riesce a venire in serie a al contrario ci sono squadre come vi ho sempre detto come napoli come lazio che non hanno all inter che non hanno lo stadio di proprietà in questi anni a livello di progettualità e di crescita hanno iniziato e stanno facendo molto meglio secondo me ma anche secondo il campo quindi anche sta cosa dello stadio parliamone 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 parliamo anche un po di calciomercato perché si fanno i nomi di paganini fares e cistana c'è paganini del frosinone vi faccio notare che è quello che avevo inserito nel caltomercato della scorsa estate dicendo che mi piaceva quindi io non lo critico mi piacerebbe però vi faccio notare che stiamo comunque parlando di paganini del frosinone per il rilancio della fiorentina 2020 2021 fares e cistana li ho già commentati secondo me non sono nomi da piazzamento europeo non sono nomi da sempre da questo da queste posizioni di classifica qui vi ripeto vertonghen che si parlava si si parlava di sto vertonghen alla fiorentina e sapete guardate che non vengono non vengono non vengono non vengono è un passo dall'accordo con la roma ma detto questo io vi ripeto la mia netta sensazione è che si si darà continuità ad un a quello che è stato l'anno che abbiamo appena terminato allora vi ripercorro le i momenti le parentesi che abbiamo vissuto sto anno allora è arrivato commesso in estate la storia non ufficiale diciamo dei 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 non commissiani è arrivato commesso feste tripudi bandiere vedrete che arriveranno i campioni arriva ibraimovic arriva pocettino cambi allenatore si parlava di di profili top internazionali confermato montella e si è visto ben poco a livello di calcio mercato si iniziava a vedere ben poco vi ricordavate quest'estate e vi dicevo oma sti colpi che che dite che devono arrivare quando è che arrivano a non sai aspettare vergognati la società ha detto 10 agosto ma lo sai l'italiano dal 10 agosto 10 agosto arrivi boateng gezal badel e quelli che avete visto voi eccettuato un 36 n riberi benissimo primo anno è andato come è andato con un decimo posto che vi avevo ampiamente preventivato però tutti già dopo quest'estate che comunque un po di spie doveva metterle è arrivata capito è arrivata l'idea di dire è ma è un primo anno comunque bisogna avere pazienza aspettiamo vedrete che il secondo sarà diverso vedrete che quando iachini sarà mandato via vedrete che inizieremo con un con un con un allenatore di livello diverso con con un progetto nuovo quest'estate arriveranno le vere spese arriveranno i veri campioni risultati confermati tutti anche pradè anche pradè anche pradè e iachini confermati e i nomi che si fanno per il calciomercato sono questi e l'obiettivo è ancora quello che ci si dava praticamente la scorsa estate cioè quello della parte sinistra della classifica allora io io vedo anche diversi tifosi perché questo mio è un microcosmo piccolo fatto purtroppo di tanti tifosi giovani di tanti tifosi troppo 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 politicamente corretti o alcuni sono politicamente corretti e si fanno andare bene tutto capito che è una cosa che io veramente non concepisco credo sia anche un po dannosa per 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 la per la squadra che si tifa perché un tifoso che si fa andare bene tutto un tifoso che 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 non porta capito la squadra ai ai livelli che invece merita oppure ci sono anche persone che siccome si sono spese in maniera eccessiva in maniera ingiustificata verso questa fantasmagorica svolta che doveva esserci oggi devono difendere l'indifendibile e aggrapparsi ai ai muri capito alle finestre con le unghie qui denti ma a parte questo microcosmo qui se voi uscite vedete le fanzine vedete vi ripeto anche tanta critica c'è molta gente che due domande inizia a farsele vi ripeto ci sono giornalisti ci sono critici ci sono osservatori che fino a qualche mese fa erano invisibilio oggi due tre domande se le facciano cosa che comunque non è che gradisco tanto perché preferirei maggior linearità nei giudizi capito non che prima mi 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 viene dipinto chissà cosa e poi ci si sveglia capito però va dato conto anche di questo quindi vogliamo farci le due domande vogliamo smettere posizioni di comodo e fingere che sia tutto bene tutto bello quando non è assolutamente così specie in vista dell'anno prossimo la smettiamo oppure diteci chiaramente a me va bene con commisso fare dei campionati di metà classifica le mie competitor sono verona cagliari veramente le mie competitor sono il bologna voglio arrivare decimo undicesimo e mi va bene così ok se no ditelo chiaramente perché altrimenti vi ripeto siamo su binari che non collimano se invece il vostro obiettivo è quello di portare in un tempo ragionevole ma soprattutto con dei passi concreti e visibili la fiorentina a livello che le compete per storia cioè attorno al quinto posto in zone europee allora dobbiamo parlarne e capire che per adesso non si sta vedendo molto in questa direzione però non si sta vedendo molto più però non si sta vedendo molto più